non essere lì insomma. Io volevo fare una domanda sulla sua attività di Presidente della Fondazione Leonardo, con la quale sta promuovendo un'autorità nazionale per le attività subacquee. Finora abbiamo parlato del mare, della superficie, della pesca e di tutto quello che può rappresentare il bene acqua. Abbiamo parlato poco dei fondali marini, della loro tutela. Vuole raccontarci questa esperienza? Sì, noi sollecitati dalla Marina Militare abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo ad un rapporto sul subacqueo che è questo. Credo che sia il primo rapporto scritto in Italia proprio sull'attività subacquee. Praticamente abbiamo questa situazione che voi conoscete bene, credo grande pubblico, forse no. Noi conosciamo pochissimo i fondali marini, conosciamo meglio Marte di quanto non conosciamo i fondali marini, ma i fondali marini sono essenziali perché attraversate dalle reti energetiche, come sappiamo, delle comunicazioni, perché i sibedi, il fondale marino, non a quello mediterraneo ma a quelli oceanici, sono ricchi di terre rare di nodoli polimetallici. Ci sono problemi biologici di enorme importanza perché molte medicine vengono estratte attraverso lavorazioni di pianti animali dei fondali marini. Insomma, è un mondo da scoprire e su quale lavorare. Devo dire che ho ascoltato con molto interesse quello che sta detto anche dal Presidente Rizzetto e da altri. Noi abbiamo messo insieme un trust di 49 università per una formazione qualificata di profili professionali dedicati al subacqueo, a tutti gli aspetti del subacqueo che riguardano le reti all'archeologia sottomarina, alle nuove tecnologie e così via. In questo quadro il polo della subacqueo credo che sia un elemento assolutamente essenziale perché sappiamo che non è facile, oggi il polo è praticamente, dovrebbe essere gestito dalla marina militare, è stato istituito, i fondi non sono particolarmente relevanti, sono 2 milioni ma si può cominciare. Devo dire, se mi è permesso riflettere su un punto, dobbiamo superare alcune contese di competenze. Quello che conta non è chi è competente a far cosa, ma le cose che si fanno e farle nel migliore dei modi possibili. Questo è il punto di fondo, perché altrimenti confrontarsi su che deve fare che cosa vuol dire poi praticamente non far nulla, questo purtroppo è il problema che abbiamo. Credo che dovremmo approfondire, l'altra parte della Francia ha un sistema unificante di lavoro per quanto riguarda il subacqueo, credo che questo è un punto di particolare importanza. Noi tra l'altro porteremo questo rapporto in università e nei studi di tecnica, ho sentito molto bene a parlare prima della formazione degli studi tecnici, perché devono capire bene che lì c'è un mondo nuovo di lavoro, tanto lavori specializzati, tanto lavori meno specializzati. Però ecco, i fondali marini sono il quinto o sesto ambiente dell'umanità del futuro. Uno c'è lo spazio, c'è il cyber e poi sono i fondali marini. Noi lavoriamo in questa direzione e tra l'altro è abbastanza interessante tenere conto di una cosa. Bisogna ricostruire un ordine nel mare. Oggi ci sono dieci autorità ministeriali che hanno competenze sul mare, sia sopra, sia subacqueo che il mare di superficie. Poi dove comincia il subacqueo, come sappiamo, c'è tutto quanto una discussione, dove cominciano i voli suborbitali per quanto riguarda lo spazio. Insomma, a parte questo, ci sono troppi soggetti che intervengono. Devo dire che ha fatto un lavoro straordinario il ministro del mare nel costituire questo comitato che ha scritto un rapporto veramente di qualità. Anche lo studio Ambrosetti ha visto che ha fatto un'integrazione eccellente, di cui mi congratulo davvero. Però bisogna stavire chi fa le cose. Il policentrismo anarchico non aiuta allo sviluppo del Paese. Tanto che ognuno vale fare un pezzo e vuole fare quel pezzo per sé e non vuole cedere ad altri, vuol dire che quelle cose non si fanno alla fine. Bisogna trovare un modo razionale, non autoritario, ma persuasivo, perché tutti i soggetti che hanno una qualche competenza cerchino un po' di mettere insieme per realizzare l'obiettivo, non per mantenere un pezzo di competenze. Questo credo che sia. E studiando le questioni dei fondali marini, questo problema è emerso, come è emerso anche per quanto riguarda il polo di cui ha parlato, il polo nazionale della subacquea. Noi non abbiamo, come è noto nel Mediterraneo, tererale, noduli polimetallici di qualità. Però abbiamo bisogno di una forma di regolamento che dobbiamo attuare per poter andare a fare con le nostre tecnologie fuori dai nostri confini quello che altri paesi stanno cercando di cominciare a fare. Questo è un altro dato di particolare rilevanza. Insomma, bisogna parlare del subacqueo. Con l'università, ripeto, ci stiamo riuscendo, sono 49, sono abbastanza, con i suoi tecnici lo faremo. Sarà importante poi, credo, prima o dopo, entrare in contatto con l'autorità di governo, di Parlamento, siamo già, l'autorità parlamentari perché anche loro possano, dove ritengono, intervenire secondo le loro competenze e la sovranità che caratterizza il Parlamento su alcuni punti di qualità. Da questo punto di vista mi permetto di sottolineare il problema dell'archeologia subacquea. Noi siamo un paese che è detentore di musei archeologici sopra e sotto il livello dell'acqua, devo dire. Tra l'altro in Sicilia si è fatto un grande lavoro da questo punto di vista, ma non solo in Sicilia. Noi adesso abbiamo due giornate a Cagliari, avremo proprio sul subacqueo, e poi dopo, con l'Università del Salento, ad ottobre, organizziamo un grande convegno anche sulle professionalità necessarie da costruire per l'archeologia subacquea, perché sono professionalità. E quelli sono giacimenti enormi dal punto di vista turistico, produttivo, economico, finanziario, che credo che andrebbero fortemente incentivati. Questo in poche parole è il quadro nel quale ci stiamo muovendo. Grazie Presidente, grazie davvero e auguri di pronta guarigione. Grazie a lei e grazie a tutti quanti voi.